Certo, noi lo mettiamo subito alla prova. Sicuro? Guarda che io ti sgambio subito. Qualche si vede? Bene. Bene. Bravo! Che ha detto? Ha detto la volaccia? Sì, sì, sì. Ma l'ha detto bene. L'ha detto ben, bravo. Ho 11 anni. Mi piace stare molto qui con voi. Siete una... Questa roba hai detto. No, non l'hai detto. Che ha detto? Che ha detto? No, ha detto così. Ha detto così. Ah, perfetto. Ma tu sai parlare Russo? Prima ti sei sparata la voce. E io qua, io là, inglese, russo, tutta sta roba. Io quando andavo all'Ellandia stavo sempre sulle montagne russe. Quindi voglio dire qualcosa posso sapere anch'io. Sono un figlio di Putin, o no? E quindi, vabbè. Aspetta, aspetta, solo un secondo, Umerto. Perché io lo devo mettere alla prova. Allora, vediamo. Vai, 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 vai. Vediamo. Ovesce fedagato? Ovescio oschio 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 oschio... Vabbè, lasciamo stare. Entriamo nell'esibizione. Vabbè, vabbè. Allora, sei pronto? Che pezzo farai? Che pezzo farai? Che farai? Che farai? Michael Jackson. Michael Jackson! Come? 3, 2, 1... Umberto menzione a... Tussi... E... Social!